Vi propongo un patto, un patto educativo, non l'ennesima riforma, non il solito discorso che propongono tutti i politici, adesso dobbiamo cambiare le regole del... no, vi propongo una cosa diversa. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana, ma soprattutto per darle importanza, perché i politici di solito quando parlano di scuola la mettono in fondo al sacco, la mettono come una delle ultime ruote del carro, la scuola è quello che resta, prima c'è da rifare la pubblica amministrazione, riorganizzare il bilancio dello Stato, sistemare i vincoli economici, tutte cose importanti, ma è la scuola il cuore di tutto. Se noi saremo in grado nei prossimi 12 mesi di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi 20 anni, allora costruiremo un'occasione di bellezza educativa per i nostri figli e anche per le famiglie, che spesso vedono nella scuola non più un luogo dove stare sicuri, ma un luogo di preoccupazione. Pochi discorsi, concretezza, ruolo degli insegnanti, noi diciamo basta ai precari e alla supplentite, però bisogna anche avere il coraggio di dire che si devono giudicare gli insegnanti e gli scatti di stipendio devono essere sulla base del merito, non sulla base dell'anzianità. Due, gli argomenti, gli argomenti di discussione, i temi, quelli che quando ero piccolo io si dicevano i programmi. Una grande campagna di ascolto di due mesi, dal 15 settembre al 15 novembre, perché ogni studente ci dica insieme alla sua famiglia, ai suoi amici, alla sua associazione di che cosa vuole parlare nella scuola italiana. È giusto o no dedicare più ore alla storia dell'arte, alla musica, all'inglese, all'educazione fisica e motoria? Io credo di sì, ma sarà bellissimo ascoltare la voce di tutti, perché la scuola non è del Presidente del Consiglio, non è del Ministro e ancora l'organizzazione gestionale, non soltanto investendo sulle nuove tecnologie e sulla digitalizzazione, ma anche consentendo ai presidi di essere davvero in grado di esercitare l'autonomia e i rapporti col territorio e l'offerta formativa. Quante sfide abbiamo davanti? Noi oggi proponiamo il rapporto sulla scuola italiana. Dal 15 settembre al 15 novembre la campagna di ascolto ci interessa l'opinione di tutti, nessuno si sente escluso. E poi con la legge di stabilità, cioè il bilancio dello Stato, mettiamo più soldi sulla scuola, perché mettere i soldi sulla scuola non è un costo, è un investimento per i nostri figli, per il nostro futuro, per l'Italia. Chi vuole bene all'Italia vuole bene alla scuola. Poi, a partire da gennaio, i provvedimenti normativi perché il 2015 sia l'anno in cui si inizia a fare sul serio, ma non ripartendo come sempre da capo, provando a cambiare la nostra mente e mettendo la scuola al centro dello sviluppo dell'Italia che verrà. Non è una riforma, non è l'ennesima riforma della riforma, si tratta semplicemente di provare a credere in noi stessi, cioè di credere nell'Italia, cioè di credere nella scuola. Vi chiedo allora un aiuto, una mano. I giorni che ci aspettano sono giorni meravigliosi, non buttiamoli via. Abbiamo il coraggio di provare insieme a disegnare la scuola che verrà. E forse, anche così, l'Italia tornerà ad essere custode della straordinaria bellezza che ha. È un patto, non una riforma. Abbiamo sentite parole di Renzi, un segnale che la scuola non è più in fondo alle priorità del governo. Il patto proposto dal Presidente del Consiglio, la parola patto presume che ci sia accordo però tra due parti, cioè tra il mondo della scuola e la politica. E comunque la buona scuola è il titolo, lo slogan e l'annuncio di queste oltre 100 pagine pubblicate oggi online dal governo. Buonasera, è ben trovato in studio il portavoce nazionale dei Cobas, Piero Bernocchi. Buonasera a voi. 130 pagine. 136, per essere esatti. Premesso, questa è la premessa di tutto questo nostro colloquio, che stiamo commentando degli intenti ovviamente, non dei provvedimenti concreti. Le prime valutazioni a caldo, avrà sentito le parole di Renzi, ha letto queste 100 pagine, ha dato un po' insomma uno sguardo a queste 130 pagine oltre. Le prime valutazioni quali sono? Ma Santini, mi permetta una premessa, perché Renzi, credo che ormai molti italiani lo dovrebbero aver capito, è forse un artista funambolo della vendita di fumo che supera nettamente Berlusconi. Se guardiamo le promesse degli ultimi sei mesi, dovevamo avere una riforma ogni mese. Poco fa voi avete detto che la riforma chiave, quella decisiva, secondo loro, quella istituzionale, la legge elettorale, è ferma da sei mesi al Senato. La cancellazione del Senato è ancora ferma anch'essa, perché ha bisogno di altri tre passaggi. La riforma della giustizia non è neanche stata abbozzata, ma soprattutto i provvedimenti economici, che sono la cosa che interessa di più agli italiani, perché avete sempre detto voi poco fa che la disoccupazione veleggia verso il 13%, non solo non ci sono, ma addirittura Berlusconi e Renzi nell'ultimo incontro di tre ore si sono vantati di aver parlato solo 5 minuti di economia. Quindi quando si valuta la figura Renzi, il politico Renzi, il Presidente del Consiglio Renzi bisogna tenere ormai presente questo. Il provvedimento ha una cortina di fumo gigantesca sui 150 mila precari da assumere, che non sono tutti precari, diciamo sono più o meno la metà dei precari esistenti, e però evidentemente sono precari che hanno maturato da tempo il diritto a essere assunti stabilmente e quindi se questo provvedimento fosse reale sarebbe estremamente positivo. Ma la domanda è questa, perché questo provvedimento che doveva essere presentato in Consiglio dei Ministri? Sono 4 mesi che si annuncia un Consiglio dei Ministri sulla scuola che prenderà provvedimenti epocali. L'ultimo è stato annunciato per oggi, ieri pomeriggio alle 18 è stato detto che non ci sarebbe stato nessun Consiglio dei Ministri, ma semplicemente 130 pagine messe online, che non costano niente. Diverso sarebbe stato se ci fosse stato un Consiglio dei Ministri che avesse detto, assumiamo dal 1 settembre 2015 150 mila precari, che significa 3 miliardi di investimenti. Però non è già un impegno che il Governo prende di fronte al Paese? No, la differenza è abissale, perché i 3 miliardi di investimenti, e dico per chi ci sta ascoltando, 3 miliardi di investimenti perché un precario della scuola costa circa il 33% in meno di uno stabile ed è per questo che ci sono un mare di precari da decenni. Se si prende un provvedimento in Consiglio dei Ministri del genere, bisogna dire che il prossimo mese, quando la finanziaria entrerà in discussione in Parlamento, ci sarà una cosa che dice che 3 miliardi vengono destinati. Questi 3 miliardi non sarebbero tutto quello che serve, perché negli ultimi 20 anni l'investimento per la scuola in Italia è stato ridotto da tutti i governi, centrodestra, centrosinistra, bipartisan, eccetera, di almeno il 20%. Non c'è nemmeno un euro in più, non è annunciato neanche un euro in più per la scuola complessivamente e nemmeno per gli insegnanti, i quali, avete dato anche questa notizia a voi, sono fermi col contratto a 6 anni fa e Madia oggi ci ha detto che non solo verrà bloccato il contratto del 2015, ma verrà bloccato probabilmente fino al 2018, cioè praticamente 10 anni di blocco contrattuale. Questo è il fumo e però dopo il fumo ci sono c'è l'arrosto grave e l'arrosto grave che penso, temo, domani i giornali, i mezzi di informazione non evidenzieranno perché leggersi 130 pagine è già duro per noi del mestiere, tra virgolette, entrare nei dettagli, eccetera, diventa complicato. Primo, Renzi ha intenzione di dare ai presidi padroni il potere totale. C'è scritto letteralmente nel provvedimento questa frase. Per dare la piena autonomia scolastica serve schierare la squadra con cui giocare la partita dell'istruzione. A Renzi piacciono queste immagini calcistiche, nonostante sia tifoso della Fiorentina che sabato scorso ha preso la sveglia dalla Roma a un passato. Ma questo insomma. Ma questo è secondario. Cioè chiamare a scuola, letteralmente, i docenti e gli ata che il preside dopo consultazione collegiale riterrà più adatti. Questo provvedimento, cioè l'assunzione diretta e ovviamente anche il licenziamento da parte del preside è una cosa che dentro la scuola i presidi cercano da secoli e in questi anni gli è stato dato molto potere ai presidi che ha disgregato la unità collegiale della scuola, ma l'idea che i presidi assumono e licenziano i docenti e gli ata è dirompente. Poi c'è questa vicenda del merito che è una specie di tormentone. Sono 20-25 anni che i governi di centro-sinistra, quasi sempre loro, ci spiegano che bisogna retribuire il merito. Ora in un paese dove il merito è calpestato prima di tutto da loro perché la casta politica italiana per merito è considerata la peggiore d'Europa occidentale, su questo non ci sono dubbi, nessuno ci ha spiegato sto merito per gli insegnanti che cos'è. Ora a livello internazionale c'è un solo modo per valutare che cosa sa fare un docente, perché un docente non deve sapere soltanto la materia. Questa è la premessa, senza quella non sei un insegnante. Ma poi la deve sapere trasmettere, deve saper coinvolgere gli studenti, deve essere interessato a che gli studenti migliorino, deve avere empatia, deve avere la capacità di tenere la classe. Queste cose non si misurano né con i test, né con i quiz, né con gli esami sul testo scritto. L'unico modo per valutarli è andare in classe e vedere cosa fanno effettivamente gli insegnanti. Questa cosa si fa in un solo paese del mondo e in una sola condizione, negli Stati Uniti, per assumere gli insegnanti della Ivy League. L'Ivy League è la lega delle grandi università, Yale, Harvard, Massachusetts Institute of Technology, eccetera, che sono università che costano una barca di soldi, 50, 60, 70 mila dollari l'anno, e che pagano gli insegnanti un sacco di soldi. Come funziona il reclutamento lì? C'è un osservatore, esattamente come nel calcio, quello che va a vedere i giocatori. Per un anno segue gli insegnanti che stanno in altre università minori oppure nelle scuole superiori e alla fine dell'anno fa un resoconto che tiene conto di come insegnano, di come gli studenti li apprezzano, di qual è il rapporto, eccetera. In genere sono rapporti veritieri, ma questo metodo di valutazione costa una barca di soldi perché richiede un valutatore e insegnante. Escluso questo metodo nessuno ha trovato il metodo per vedere qual è l'insegnante migliore. Che cosa ci dice Renzi? Che da adesso in poi gli scatti salariali verranno dati in base a un merito che verrà valutato su criteri ancora non definiti, eccetera, ma su cui l'ultima parola la darà sempre il preside. Io li chiamo presidi anche se vengono chiamati dirigenti scolastici perché secondo me dirigono ben poco, sono tutti ex insegnanti che in genere in gran parte sono scappati dall'insegnamento perché lo trovavano troppo pesante. Ma comunque, lasciamo perdere. Loro dicono che questa valutazione verrà fatta con l'attribuzione di scatti di anzianità e di maturità ogni tre anni. Per fare questo però la parola decisiva la darà il preside. Che cosa può succedere in una scuola dove il preside assume e licenzia e stabilisce gli stipendi degli insegnanti per me in un paese come l'Italia dove la corruzione generale è dilagante, il clientelismo e il familiarismo pure mi mette paura. La riporto però, chiedo scusa, un attimo sul fumo, quello che lei definisce fumo e poi ci torniamo su questo aspetto. Ritorniamo un attimo ai precari perché poi il grande lancio diciamo di questo annuncio, di queste pagine pubblicate oggi da Renzi è quello. L'aveva detto il Ministro Giannini qualche giorno fa e oggi Renzi di fatto l'ha confermato. Un bacino dei precari, mi corregga se sbaglio, è circa fra gli insegnanti 300 mila o poco più in Italia. Sì, dipende come valutiamo i precari, se anche quelli che hanno fatto un mese sono insieme precari, si va anche oltre a 400 mila. Sì, parliamo ovviamente di quelli che rientrano nel bacino, nei graditori di esaurimento. No, i graditori di esaurimento sono 150 mila, però poi ce ne sono altre tanti che hanno maturato 7, 8, 9, 10 anni di precarietà, ma non sono potuti entrare a suo tempo nelle graduatorie perché quelle poi vennero bloccate e che grossomodo hanno gli stessi diritti, ma ciò non toglie che 150 mila è meglio di niente, anzi sarebbe un passo. Visto che Renzi si è preso comunque insieme al Ministro Giannini pubblicamente questo impegno, diamo per buono che questo verrà realizzato, però non è dimezzare il bacino dei precari. No, ma sentite, lo diamo per buono esattamente come verrà data per buono la legge di riforma elettorale quando verrà fatta, cioè quando. Adesso la finanziaria va presentata a ottobre, ok? Se a ottobre si è scritta nella finanziaria... Ci sono questi 3 miliardi. 3 miliardi, oh attenzione, 3 miliardi per quest'anno, a ogni anno saranno 3 miliardi perché i precari, non è che poi il prossimo anno li retrocedi a precari. Allora, se vediamo per iscritto questa cosa, diciamo, bene, questa è l'unica cosa positiva, tutte le altre sono negative, poi ce n'ho altre da elencare, ma magari le elenco dopo, ma queste cose... Fino adesso è uno dei tanti, dei miliardi, era come la storia degli 80 euro che venivano dati anche ai pensionati e stesi a tutti. Tra l'altro nessuno sa neanche se il prossimo anno gli 80 euro ci saranno ancora per gli altri. Per cui che cosa può succedere? Che lui ha promesso una discussione che è pura retorica, perché tanto non discuterà con nessuno... Poi ci arriviamo a questo che le ho chiedo... E aspetta a fine novembre. A fine novembre la finanziaria è finita. Allora lui dirà beh, adesso però i soldi non ci sono, quindi sì, assumeremo i 150 mila, ma li assumeremo in 3-4 anni. Tenete presente, nei prossimi 3 anni usciranno molti più docenti e ATA di quanti ne uscirono gli anni passati, perché come forse saprete è stato bloccato, è stato ritardato il pensionamento degli insegnanti 3-4 anni, per cui nei prossimi 3 anni dovrebbero uscire intorno a 100 mila lavoratori della scuola. Quindi in ogni caso, ogni anno 30 mila, in media più o meno, dovrebbero essere stabilizzati. Probabilmente arrivati a gennaio si dirà beh, i soldi, c'è la crisi, c'è la guerra in Ucraina, eccetera, eccetera, quindi sì, li assumeremo però in 3-4-5 anni, eccetera. Per cui finché non vediamo una cosa... No, vediamo, non viene portata in Parlamento. Lei dice che finché non c'è scritto sulla lettera, diciamo, letteralmente sulla finanziaria, che questi 3 miliardi vengono stanziati, rimane un annuncio. Anche perché se non vengono stanziati, non possono essere stanziati. Però, rispetto a quanto si è fatto in passato, 150 mila, l'impegno almeno di assumere 150 mila precari, converrà con me un impegno comunque oneroso, un impegno importante che si prende nel governo. Rispetto a quello che si è fatto in passato, Renzi si era preso l'impegno di ridurre drasticamente il debito pubblico, è aumentato vistosamente negli ultimi anni. Si era preso l'impegno di far diminuire la disoccupazione, è aumentata vistosamente. Si era preso l'impegno di aumentare i salari, ed è... sono diminuiti... Ma lei dice, insomma, i precedenti non sono incoraggianti. Ma no, ma insomma, ma nemmeno Berlusconi... Voi dite che i precari convengono alla scuola, perché? Soltanto per una questione di costi o anche per altre ragioni? Sì, no, diciamo meglio, la democrazia cristiana, perché la cosa è vecchia, la democrazia cristiana ha esteso all'infinito la precarietà nella scuola, perché il precario, per chi non lo sapesse, non viene pagato ad estate, non viene riassunto il primo settembre, ma spesso viene assunto a ottobre e a novembre, non ha i cosiddetti scatti di anzianità, non ha i contributi pensionisti. Insomma, in parole povere costa vistosamente meno, ma deve fare lo stesso lavoro degli stabili, persino con meno diritti e con una vita, come dire, anche individuale, precaria, non solo, ma aleatoria, perché nello stesso tempo il precario si deve tenere preparato per andare a insegnare una barca di materie in una barca di scuole, perché è una cosa che non si sa, non è che quello vai a insegnare solo lì, puoi insegnare questo, 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 puoi andare a fare il supplente dalla mattina alla sera, cioè ti chiamano la sera e ti dicono domani mattina devi venire a fare la supplenza qui e tu devi essere preparato, e però non sei pagato. Visto che Renzi adesso ha lanciato questa campagna d'ascolto, così l'ha definita, questi due mesi di consultazioni con gli operatori del settore, immagino anche con voi per quanto riguarda la situazione dei lavoratori. Con voi sicuramente, con noi, no, perché la ministra Giannini non ha neanche aperto una discussione con i Cobas, discuterà con CGL, Cisle, quello sicuramente, ma lì tanto si sa, è tutta una barca di Stato. Mi dica però se, per quanto riguarda la qualità dell'educazione, che ovviamente al di là della valutazione del merito, di cui anche lei accennava prima, la supplentite è la malattia in questo momento della scuola italiana, perché questo ha fatto passare come messaggio soprattutto il ministro Giannini. Ma questa è un'altra delle fesserie, perché la supplentite c'era pure quando io andavo a scuola e tutti dicevano che la scuola degli anni 50 e 60 era di grande qualità. Funzionava. Sono altre le cose. La prima cosa, ripeto, è la diminuzione vistosa degli investimenti. Tanto per dirne una, quando c'è stato il massimo di investimento, cioè gli anni 80, fino alla fine degli anni 80, lo Stato italiano su 100 lire, allora ovviamente c'era la lira, che spendeva, ne dava 13,2 per l'istruzione, intendendo dalla materna, insomma, fino all'università. Adesso su 100 euro che lo Stato spende complessivamente, con la spesa pubblica complessiva, ne vanno all'istruzione circa 8,7. Cioè praticamente in 25 anni l'istruzione come investimento massiccio è stata diminuita del 25-30%. La seconda questione fondamentale è la motivazione dei lavoratori, dei docenti, che sono sottopagati da sempre, ma che negli ultimi anni hanno sviluppato dei gap stipendiali con gli altri europei occidentali vistosa, nonostante gli orari, contrariamente a quello che si dice, siano più o meno gli stessi. Il terzo elemento distruttivo di questi ultimi anni è quella che noi chiamiamo la scuola quiz, cioè l'idea demenziale che la scuola si possa valutare attraverso test quiz, che sta trasformando l'intero insegnamento in un quizificio demenziale. Quindi c'è un deperimento culturale, un deperimento finanziario, un deperimento di investimenti. Per invertire questo devi intanto investire e lì non c'è nessuna permessa di investimento globale. Facendo una battuta temevo che mi dicesse che il precariato aumenta la motivazione dell'insegnante e questo insomma, ai Cobas non mi aspettavo di sentirlo dire. No, diciamo che i precari entrano nella scuola con buone speranze. Così come ci sono entrati gli insegnanti, perché uno non va a insegnare così, faccio un lavoro, faccio questo. Lavorare nella scuola è molto complicato perché tu hai di fronte un gruppo umano che sempre più ha poche motivazioni, cioè che viene a scuola davvero poco convinto, perché la scuola non premia più. Oggi più tu stai a scuola e meno hai possibilità di trovare lavoro. Il paradosso in Italia è che più sei qualificato e meno lavori. E non c'è un altro modo per premiare gli insegnanti oltre al meccanismo a quello che faceva riferimento prima degli Stati Uniti, quindi della valutazione individuale in classe. Non è possibile concertare un altro sistema? No, io credo che sarebbe bene pagare. Io credo che tutti gli insegnanti devono lavorare bene e io credo che in potenza tutti lo vorrebbero fare. C'è bisogno di dargli un ruolo effettivo, di dargli soldi adeguatamente e di aggiornarli in continuazione, ma di aggiornarli adeguatamente. Cosa che non è mai stata fatta. Noi abbiamo chiesto per anni, anzi per decenni, il cosiddetto anno sabbatico, cioè che ogni 6-7 anni tu smetti di insegnare e vai ad aggiornarti per un intero anno obbligatoriamente, non ce l'hanno mai voluto dare. L'aggiornamento non è mai stato fatto in maniera seria. Non c'è bisogno di fare una gara tra insegnanti. Nessuno vorrebbe che in ospedale ci fossero i chirurghi bravi e i chirurghi di seghe, i chirurghi incapaci. Chi andrebbe da un chirurgo incapace? Per cui il problema non è fare la graduatoria di chi è più bravo e chi è più bravo, ma fare in modo che tutti lavorino bene. Questo per noi ci sembra elementare. C'è un motivo probabilmente per cui Renzi dovrà mantenere questa promessa dei 150.000 assunti, che è una sentenza che va in questo senso dell'Unione Europea, che ha più volte puntato il dito contro l'eccessivo precariato nel mondo della scuola. Ora, non che l'Italia e in altri settori non abbia mai proceduto e sia andata avanti in procedure di infrazione, perché questo lo sappiamo bene per i rifiuti e per altri aspetti, però non è dal vostro punto di vista una rassicurazione in più? Secondo me almeno non è un elemento decisivo in questo senso. Intanto ha detto già lei che l'Italia, potremmo elencare, ma anche nella scuola, una serie di provvedimenti in cui la Corte di Giustizia, se pronunciare in un certo senso, l'Italia se ne è fottuta, perché alla fine ha fatto i conti e la multa costava meno del provvedimento, perché attenzione il provvedimento non finisce in un anno. La multa c'è adesso, ma se tu decidi e questi precari passano di ruolo, il finanziamento deve valere pure nei prossimi anni. In secondo luogo non è che questa multa viene ritirata, la multa viene fatta e ormai c'è, la multa la devi pagare. Terzo luogo decisivo, la multa è comunque operativa, perché per eliminare il problema che, per dire forse gli ascoltatori non lo sanno, la multa viene fatta perché per tre volte consecutive, contrariamente alla legislazione europea, un insegnante precario è stato riassunto per lo stesso lavoro rimanendo precario, ma ce ne sono ancora 150 mila che starebbero in questa condizione, quindi per evitare un'altra multa, perché tanto questa c'è, dovrebbero assumere 300 mila, non 150 mila. Cioè in pratica dovrebbero assumere tutti i precari la terza volta che si presentano da precari e questo non lo risolve mica con quel provvedimento. Visto che avete, avrete, forse lei mi diceva che non lo sa, però l'occasione è anche di dire la vostra, magari in questi due mesi di campagna in ascolto che Renzi ha promosso, non lo so. C'è da un lato questa proposta, diciamo, questo annuncio di stabilizzare questi 150 mila precari al costo di 3 miliardi l'anno, c'è questa sentenza della Corte di Giustizia a cui facevamo riferimento. Voi cosa proponete? Perché c'è un problema che è stato sollevato oggi, il bacino dei 150 mila precari che verrebbero stabilizzati è un bacino che ha un'età media di circa 40 anni, quando il nostro paese, l'abbiamo citato prima leggendo i dati dell'Ox, la disoccupazione è soprattutto quella dei giovani e ad essere precari è un giovane su due, quindi sono gli under 30 ad essere maggiormente precari nei nostri paesi dal punto di vista statistico. Cosa proporreste per rivedere questi criteri di assunzione eventualmente? Giusto andare a pescare chi ha più anzianità come ha proposto di fatto il governo Renzi o ci sarebbe un altro sistema più equo secondo voi per rendere più stabili i precari? Innanzitutto per quel che riguarda il dialogo, l'unico dialogo che capiscono sono le iniziative di lotta, gli altri non li capiscono, non gli interessano, per cui noi ci vedremo sabato convochiamo l'esecutivo nazionale dei Cobas per decidere le iniziative di lotta, detto francamente. Ovviamente inizia di lotta che non pensiamo di sostenere da soli, tra l'altro per il 10 ottobre già molte organizzazioni studentesche hanno convocato uno sciopero nazionale degli studenti, valuteremo se questa data va bene per estenderla anche a uno sciopero dei lavoratori della scuola e quindi metteremo in piedi in sedia di lotta dentro cui probabilmente ci dovranno stare a sentire. Dopodiché che vengano assunti intanto questi 150 e però vogliamo che sia scritto in finanziaria va bene, c'è poi il problema e quello va risolto di un numero non altrettanto grande ma consistente di precari che hanno anch'essi accumulato tra i 7 e i 10 anni di precariato e che non stanno nelle graduatorie. Sono un po' in un limbo insomma. Esatto, ci devono dire come questi escono perché contemporaneamente Renzi annuncia un concorso per altri 40.000, tra l'altro dicendo d'ora in poi si faranno i concorsi come se i concorsi in Italia fossero una cosa seria, non fossero sempre stati un luogo truffaldino, quasi sempre, non sempre, in alcuni casi magari ha premiato anche qualcuno che meritava, ma in genere non è così e non si capisce perché dovrebbero arrivare altri 40.000 per concorso quando ce n'hai ancora almeno 120-130.000 che stanno nel limbo. Detto questo però la cosa non si chiude sul precariato, noi vogliamo che si investa massicciamente nella scuola in generale perché altrimenti non se ne esce, vogliamo che venga sbloccato il contratto da scuola, vogliamo che finisca questa cosa folle che la scuola viene valutata attraverso i quiz perché qui adesso non ne abbiamo parlato eccetera ma c'è addirittura il criterio che le scuole non solo dovranno avere un criterio di autovalutazione che poi è molto formale eccetera, ma addirittura che ogni insegnante dovrà avere una sorta di portafoglio, viene chiamato così, cioè dovrà avere un suo curriculum in cui dovrà scrivere tutto quello che sa fare e non sa fare in base al quale poi i presidi decideranno se assumerli o licenziarli, che è proprio il meccanismo aziendale più biego e all'interno del meccanismo aziendale Renzi chiede i finanziamenti ai privati dicendo siccome non ce la facciamo con i finanziamenti pubblici, voi aziende dovete intervenire a portarci finanziamenti, cioè aziende che non riescono manco a finanziare se stesse oppure ci dovrebbe essere addirittura il microcredito da parte dei cittadini che dovrebbero fare dei progetti di aiuto della scuola, che è quello che già sta succedendo, cioè i genitori a cui all'inizio dell'anno viene chiesto per pagare la carta igienica, per pagare la cosa prima 50 euro, poi 100 euro, poi 200 euro, ormai in alcune scuole si è arrivata a 300-400 euro che è una cosa cattona e miserabile quando tu dici che vorrai investire come è stata una scuola quindi faremo un pacchetto di richieste in cui dentro ovviamente i precari avranno un ruolo di rilievo, ma non soltanto loro e credo che prenderemo una serie di insediati lotta, penso insieme a varie altre strutture. Mi ha detto prima insomma che a vostro avviso la supplentite non è la principale malattia che affligge la scuola italiana, c'è del decalogo almeno diciamo prendendo i 10 punti principali delle 136 pagine che ha messo online oggi il governo, c'è un punto che immagino come sindacato vi riguardi molto da vicino ed è un punto ovviamente un'esigenza sulla quale penso tutti possano convenire, cioè di un'interazione, una comunicazione più stretta tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, quindi una preparazione più specifica anche in alcuni casi a scuola o con strumenti più specifici che permetta ai giovani italiani di ricollocarsi in Italia ma anche in Europa più facilmente sul mondo del lavoro. Su quello che dice Renzi, dice dobbiamo rendere la scuola la più efficace politica strutturale a nostra disposizione contro la disoccupazione rispondendo all'urgenza ma dando prospettiva allo stesso tempo, bisogna incentivare il sistema duale, il mondo del lavoro, formazione per avvicinare due mondi che spesso non riescono a dialogare, passare dagli attuali 11 milioni di euro a 100 milioni l'anno, questo è l'annuncio e la promessa di Renzi. Da questo punto di vista vi convince, è un punto ovviamente questa sicuramente penso sia una priorità anche a vostro avviso della scuola, preparare meglio le giovani generazioni al mondo del lavoro. Per quel che riguarda la supplentite, se Renzi vuole fare un organico di scuola supplementare in cui c'è un gruppo di insegnanti a disposizione per fare supplenze va benissimo ma anche questo va pagato in altri termini. Se tu assumi degli insegnanti e gli dici state qua in questo gruppo di scuola e siete di disposizione per le supplenze, passa il primo mese e non devi fare nessuna supplenza perché gli insegnanti non si ammalano, vengono pagati benissimo ma questo aumenta i costi perché significa che c'è un gruppo di insegnanti, va bene altri insegnanti che stanno lì a disposizione per fare e che problema c'è? Ma questo significa che tu devi coprire tutto il territorio nazionale con un gruppo di insegnanti consistente e laddove non sai se le supplenze le farai o meno. La questione del mondo del lavoro, io ogni volta che sento il mondo del lavoro mi si drizzano i capelli come si vuol dire perché il mondo del lavoro sarebbe fatto dai lavoratori, invece quando parlano del mondo del lavoro parlano delle aziende e delle imprese italiane non statunitensi, non stiamo parlando di Google, di Facebook, di queste imprese che investono sull'università perché hanno il loro tornaconto, hanno dei progetti eccetera. Qui in Italia la stragrande maggioranza delle grandi aziende, per quelle poche che sono rimaste, sono appese all'aiuto statale e gente che non ti porta niente. La questione tra l'altro vengono resi quasi obbligatori gli stage lavorativi nelle superiori, ma questi stage lavorativi non hanno mai formato nessuno, nel senso che è una forma di apprendistato che alcune aziende per opportunismo, per avere esenzioni fiscali, fanno arrivare la gente che sta lì, fa un po' di lavoro gratis, senza alcuna rigatuta didattica, non ne abbiamo mai vista una e non è vero che vanno a imparare un mestiere per una semplice ragione, oggi non c'è un'azienda italiana piccolo o grande che ci potrà dire cosa gli serve tra cinque anni, perché ormai la progettazione aziendale in Italia va di mese in mese se non di settimana in settimana, nessuno di loro sa se andrà in Bulgaria, chiuderà, starà in Albania, non lo sanno, non sono in grado di progettare, per cui è fumo buttato per dire adesso li faremo veramente lavorare, quando poi invece Renzi sa benissimo che più c'è titoli e meno lavori, ma per una ragione semplice, che l'azienda dice oddio se questo c'è il titolo pretende in salario superiore, magari mi romperà le scatole, mentre io prendo un precario qualsiasi che non ha pretese e ci gioco a pallone. Insomma diversi altri punti che non abbiamo toccato, la lotta alla dispersione scolastica, l'Italia è una delle maglie nere in Europa anche su questo fronte. Sì, bastere, però anche lì, noi abbiamo assistito negli ultimi dieci anni a un aumento continuo del numero di alunni per classe, se c'è un modo per lavorare male in classe è aumentare il numero di alunni, noi quando ero piccolo, non tanto, insomma, diciamo intorno al 68 si parlava di 20 alunni per classe, adesso 35 comincia a diventare la normalità, quindi di che parliamo pure qua? Cioè queste socchiacchiere, se tu vuoi disperdere, bisogna che investi, bisogna che ci metti i soldi, nella stragrande maggioranza dei paesi che stanno veramente gareggiando tra loro a livello mondiale, l'investimento per l'istruzione è in continua crescita. L'Italia è ai margini, è ai margini di tutto, ma è in margine in particolare di questa idea che l'istruzione sia una perdita, lui dice che l'istruzione è una perdita, ma invece è considerata così, è considerata una spesa parassitaria senza resa e questa è la tragedia fondamentale, è inutile fare chiacchiere, come dire, fare nozze con i fighi secchi. Infatti so di non trovarla con corde, però la porta ad uno scenario ipotetico in futuro in cui questi 10 punti, almeno i principali, siano realizzati, quindi questa riforma va in porto e viene attuata nella quotidianità in Italia, troveremo una scuola migliore o peggiore a vostro avviso? Allora, se viene attuato l'assunzione dei precari è un'ottima cosa. Ed è uno dei 10 punti? Uno, gli altri 9 punti sono tutti negativi, quindi troveremo una scuola peggiore, troveremo una scuola in cui la concorrenza tra gli insegnanti diventerà massima senza dare luogo a una didattica migliore, troveremo una scuola dove ci avremo il preside padrone che sarà come marchionna la Fiat e quindi con una subordinazione con la gente che gli dovrà leccare il cosiddetto per andare avanti, troveremo una scuola che sarà alle dipendenze magari di due o tre aziendine che mettono quattro soldi e che comunque non avrà un euro in più di investimenti perché lì dentro tra tutte queste promesse non c'è un euro in più di investimento per la scuola. Mi ha bruciato l'ultima domanda con la quale volevo salutarla che era se comunque all'interno di tutti questi annunci che insomma voi giudicate in maniera negativa, tra l'altro cominciano uscire agenzie di reazioni anche da parte di altri sindacati che parlano di alcuni lati positivi ma soltanto di annunci spot e quindi insomma anche altre sigle sindacali si prendono la briga così di approfondire i contenuti in sede di colloquio con la politica, c'è qualcosa di buono, c'è un punto che però, viva Dio su questo, ci ha convinto Renzi? Ma a me terrorizza, lo dico francamente una cosa che non riguarda più la scuola, riguarda l'Italia, a me terrorizza la incredibile facilità con cui qualsiasi avventuriero ormai arriva e trova le porte sfondate, è successo con Berlusconi, è successo con Bossi, non voglio entrare nel merito di Grillo che è una cosa più complicata perché c'è lui però ci sono anche i grillini che sono brava gente in cenere ma certo lui pure lascia molto a desiderare, arriva questo e nel giro di poco tempo non ha quasi più un'opposizione, almeno Berlusconi ripeto una qualche opposizione, se un altro culturale ce l'aveva e io veramente questo paese non dico non lo riconosco più perché poi anche in passato la subordinazione al capo, l'acquiescenza al leader che la spara grossa c'è sempre un po' stato però sta diventando impressionante, cioè partiti che praticamente, oggi il PD esiste, no, il PD l'ha detto, non l'ho detto io, l'ha detto D'Alema, l'ha detto ieri, il PD non c'è, non c'è una segreteria, non c'è un organo di... Una fonte autorevole insomma. Eh penso di sì, penso che il suo partito lo... non che lui per carità, non parliamo dei suoi demeriti però insomma tutto questo in pochissimo tempo di uno che è arrivato con promesse, 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 non ne ha mantenuta una ma continua a giocare su promesse, 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 con 80 euro ha preso il 40% in Italia. Questo sovrasta tutto per me e rende tutto negativo, quindi non me la sento nemmeno ad andare a cercare la cosettina, che ne so, fare l'abilitazione attraverso la laurea abilitante con tre anni, due anni di abilitazione può essere anche una cosa buona, ma dentro un quadro così falso, così fasullo, così... Io credo che Renzi abbia un solo motivo in testa, il potere. L'unica cosa su cui sto lavorando splendidamente è l'occupazione del potere. Nel giro di poco tempo non c'ha praticamente né opposizione politica, perché Berlusconi è completamente sdraiato per ovvi motivi, non c'ha opposizione giornalistica, perché i giornali di Berlusconi, appiedati, poi alcuni giornali minori per carità, non c'ha opposizione intellettuale di nessun tipo e tutto nel giro di sei mesi di fronte ancora al niente. Ecco, questo mi agghiaccia per il Paese. Lo vedo un Paese esangue, morto forse troppo, ma esangue sì, cioè stenuato, che non trova capacità di reazione, che non si indigna, che accetta tutto. Ecco, questo noi ci diamo da fare per rovesciare questa situazione, ma siamo quello che siamo, non siamo una grande potenza, quindi facciamo quello che possiamo fare. Però, ripeto, questo per me copre tutto e quindi mi è difficile... Trovare un lato positivo. Sì, perché è talmente negativo questo che anche se dovessi trovare qualche briciola di positività, però, ripeto, se tra due mesi i precari con una legge vera, concreta, con un finanziamento concreto, perché sia Monti che Padovan, già gli hanno detto, Monti gli ha detto, vabbè, ma io faccio i provvedimenti e tu fai solo i chiacchiere. Padovan e Coso, Draghi mica sanno da dove escono questi 3 miliardi o altri investimenti, ma se questo verrà fatto, noi diremo che questa è una cosa positiva, non siamo scemi perché sarebbe una cosa positiva, ma la vediamo al momento puro fumo e nel contempo vediamo tutte le minacce di cui, io ne ho citate alcune, ma ce ne sono anche altre, poi ne parleremo nei prossimi giorni altrove, che sono coesistenti e che sono per noi importanti in negativo in questo progetto. La ringrazio, siamo andati dentro e oltre anche la riforma della scuola, grazie al portavoce nazionale dei Cobas, Piero Bernocchi, per essere stato con noi, adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi rientriamo con l'attualità, col calcio, insomma, ancora tante cose da approfondire qui a 56 live. Grazie.